In questa lezione vedremo un'altra importante funzione di Photoshop che ci permette di andare a modificare e a trasformare le immagini dove abbiamo uno sfondo che va allargato o ridotto e stacca molto da un soggetto che invece non deve essere deformato. Come potete vedere questa è un'immagine unica a differenza della lezione sull'alterazione marionetta, perciò qui non sono andato a scontornare l'immagine. A volte capita di dover andare a ridimensionare le proporzioni dell'immagine per adattarsi per esempio a banner piuttosto che a spazi pubblicitari della dimensione predefinita. In questo caso il problema è quello di andare a ripristinare un fondo che nonostante sembri abbastanza omogeneo, se ricreato tramite gli strumenti classici come il timbro clone piuttosto che le sfumature, tipicamente non porta a buoni risultati. Quello che possiamo fare in questi casi è andare a selezionare il livello che vogliamo modificare, che non deve essere un livello di sfondo, e andare poi a selezionare modifica scala in base al contenuto. Scala in base al contenuto cerca di capire qual è il soggetto che vogliamo mantenere e qual è lo sfondo che può espandere. Vedete che rispetto ESC un attimo e premiamo me la T alla trasformazione libera classica va a mantenere molto meglio il nostro soggetto. Riproviamo, modifica scale in base al contenuto. Sia se dobbiamo espandere che se dobbiamo andare a ridurre il nostro sfondo. Le possibilità che abbiamo, oltre a quelle di impostare il punto rispetto al quale dobbiamo andare a fare la trasformazione come già visto per quanto riguarda gli strumenti di trasformazione, è la possibilità di andare a proteggere il tono della pelle, e in questo caso funziona abbastanza bene questa funzionalità con il nostro fiore visto il colore che ha, oppure la possibilità di andare a modificare il cosiddetto fattore, ossia quello che ci permette di decidere quanto possiamo ridimensionare o meno il soggetto della nostra immagine. Torniamo perciò con un ESC alla nostra situazione iniziale e riselezioniamo scale in base al contenuto. Andiamo questa volta a schiacciare molto, vedete che fino ad arrivare quasi al bordo del fiore non abbiamo modifiche sostanziali al nostro soggetto, se noi andiamo a modificare il fattore e lo portiamo fino ad essere un fattore zero, di fatto stiamo applicando una trasformazione libera normale. Chiudiamo questo file e passiamo al secondo esempio, in cui abbiamo un soggetto decisamente più complesso su uno sfondo che anche esso è più complesso. In un caso come questo, scala in base al contenuto, per quanto funzioni abbastanza bene, tasto alta anche qui per ridimensionare rispetto al centro, però vedete che va a deformare alcune zone. ESC abbiamo noi la possibilità di andare a indicare a Photoshop qual è l'area da mantenere senza andare a deformarla, semplicemente andando a creare un canale alfa che definisca in bianco l'area che non deve essere toccata e in nero l'area che invece può essere modificata. Selezioniamo di nuovo l'opzione scala in base al contenuto e questa volta scegliamo proteggi e il nome del canale alfa che abbiamo creato, nel nostro caso ballerini. Andiamo poi a modificare la nostra immagine e vedete come in questo caso, nonostante qualcosa debba essere leggermente deformato come il braccio del ballerino, ma possiamo andare a modificare molto di più la nostra immagine mantenendo il soggetto fermo e andando a deformare soltanto lo sfondo. L'opzione scala in base al contenuto appena vista è stata affiancata nella versione CS6 di Photoshop da uno strumento che troviamo sotto gli strumenti come il pennello correttivo e il pennello correttivo al volo che si chiama strumento sposta in base al contenuto. Lo strumento sposta in base al contenuto ci permette di definire come faremo con il lazzo, perciò possiamo utilizzare anche un altro tipo di selezione, il soggetto che vogliamo andare a muovere e basterà poi andare a cliccare, a trascinare questo soggetto nell'area di immagine dove lo vogliamo spostare perché Photoshop vada a muovere questo soggetto e a ricreare lo sfondo dove altrimenti si sarebbe formato il buco corrispondente alla zona del soggetto. Possiamo utilizzare il metodo sposta oppure il metodo estendi che in questo caso andremo a duplicare anche parte del nostro soggetto. Oltre a questo abbiamo la possibilità di utilizzare diversi metodi di adattamento che ci permettono di ottenere risultati meno precisi o molto più precisi, ovviamente a discapito dei calcoli richiesti per effettuare queste modifiche.